Neeeeee! Qui Alfigame, oggi vi spiego come emulare i giochi PlayStation 1 su PC utilizzando l'emulatore DuckStation. Iniziamo subito andando a scaricare l'emulatore, ci ritroviamo nella pagina di GitHub, andiamo in fondo e scarichiamo DuckStation Windows X64 Relays. Salviamo dove ci pare. Una volta scaricato possiamo aprire l'archivio ed estrarne il contenuto. In questo caso vado a creare una cartella apposita e ci vado a buttare dentro tutti i file. Apriamo la cartella dove abbiamo estratto i file e al suo interno creiamo un file di testo chiamato portable.txt. Questo file txt ci permetterà di rendere DuckStation un emulatore portatile perché avviando l'emulatore su DuckStation Qt andrà a creare tutte le cartelle a noi necessarie. Possiamo anche chiudere l'emulatore. Dopodiché dobbiamo procurarci i file BIOS. Per ovvi motivi piratosi io non posso farvi mostrare e dirvi dove scaricare i file BIOS perché sono protetti da copyright. Però voi andate su google o su archivio.org troverete i file BIOS della PlayStation 1. In particolare dovreste trovare dei file chiamati scph5500, 5501 e 5502. Ogni file BIOS corrisponde a una regione del sistema. Tutti e tre questi file vanno salvati nella cartella di DuckStation e dentro la cartella BIOS. Doveste ritrovarvi la cartella BIOS con questi tre file. Quindi andiamo ad aprire l'emulatore DuckStation-Qt. Andiamo su settings qui in alto e andiamo su language e mettiamo l'italiano. Andiamo a configurare il controller andando su impostazioni e su impostazioni controller. Da qui possiamo caricare un profilo predefinito. DuckStation offre profili per il DualShock 4, per i controller Xbox o qualunque controller X-Input. Per i controller del PlayStation Classic, la PlayStation Mini. E se non avete un controller, controlli per la tastiera. Con o senza il Numpad. Se avete un altro tipo di controller o necessitate di configurare manualmente i tasti, allora fate in questo modo. Su tipo di controller andiamo a scegliere controller DualShock se abbiamo gli analogici o controller digitale se non abbiamo analogici. Per configurare un tasto basta premere sul bottone associato al tasto e premere il tasto corrispondente. La voce analogico corrisponde al tasto analog presente nei DualShock originali. Quelli con la luce rossa, posta tra i due analogici e serve per attivare e disattivare i controlli analogici all'interno del gioco. Quindi chiudiamo e clicchiamo su Start File. Da qui dovremmo andare ad aprire il gioco. Il gioco è in formato bin e queue, il formato standard classico. E dobbiamo andare ad aprire il file .que, mai il file .bin. Quindi basterà fare doppio clic e il gioco si aprirà. Ed ecco il gioco in funzione. Con alti invio possiamo mettere a schermo intero e con la stessa combinazione possiamo ritornare a finestra. Alcuni giochi come Crash Team Racing hanno una protezione che si chiama LibCrypt. E se proviamo ad avviarli ci dice, perché il gioco riconosce questi giochi, riconosce che stiamo aprendo il gioco senza avere un file .sbe. Questo perché assieme alla combinazione bin e queue ci vuole un altro file che ha lo stesso nome del gioco ma con estensione .sbe. Quindi andiamo direttamente a risolverli scaricando un archivio che contiene tutti i file .sbe. Trovate sempre il link in descrizione, salviamolo dove ci pare. E apriamo l'archivio. All'interno dell'archivio troviamo tutti i giochi che sono protetti da questo LibCrypt. Nel nostro caso stavamo cercando di avviare Crash Team Racing. Quindi andiamo nella cartella dove abbiamo il nostro gioco. Andiamo a fare un confronto con i nomi CTR, Crash Team Racing, bla 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 bla. Ce ne sono due. A me finisce con EDC. Quindi questo è il file che ci serve. Lo trasciniamo qua dentro. A posto adesso possiamo provare ad avviare il gioco. E il gioco parte. Nella schermata dell'emulatore possiamo eseguire alcune operazioni quali spegnere, riavviare o mettere in pausa l'emulazione. Cambiare il disco che è utile per i giochi multidisco tipo Final Fantasy. Facciamo da file e poi andiamo a scegliere il disco. Trucchi che facendo gestione trucchi possiamo dando alla conferma andarci a scegliere se sono disponibili trucchi. Eseguire uno screenshot e caricare e salvare uno stato. In questo modo. Oppure sempre da qua mettere a schermo intero. Ovviamente ricordatevi che potete ritornare a finestra con la combinazione Alt Invio. E con questo si conclude il tutorial rapido su Dark Station. Da Alphigame è tutto. Io vi saluto e ciao a tutti! Io vi saluto e ciao a tutti!